La meningite colpisce ancora una donna ricoverata a Careggi per un'infezione da meningococco C. A 52 anni ed è residente a Campi Bisenzio. Lavora in un negozio di Montelupo Fiorentino. La ASLA ha già fatto la profilassia ai suoi contatti, cioè alle persone che l'hanno incontrata negli ultimi 10 giorni. Si tratta di familiari, amici, colleghi, oltre al personale sanitario che lo ha seguito. Le sue condizioni non sarebbero gravi, risponde alle terapie. La paziente per motivi di lavoro tutti i giorni prendeva il treno alla stazione di San Donnino alle 8.32 per andare a Montelupo Fiorentino per poi riprenderlo la sera alle 16.53. Esclusivamente per chi ha condiviso con la signora il viaggio in treno nel suddetto tratto, nei giorni tra il 26 gennaio e il 4 febbraio è raccomandata la profilassia antibiotica. Con quello di oggi salgono a 41 i casi di infezione provocata da meningococco C in Toscana dal gennaio dell'anno scorso. Solo quest'anno ne sono stati diagnosticati 10. La regione ha da tempo avviato una campagna di vaccinazione per le persone che hanno tra gli 11 e 45 anni e sono 400.000 le persone coperte, alle quali si aggiungono tutti i bambini sotto i 10 anni che hanno fatto il vaccino da piccoli. Gli altri possono comunque avere il farmaco, pagando 58 euro se si rivolgono all'azienda sanitaria oppure 98 euro se lo fanno privatamente. Il problema però è che in questi giorni non ci sono vaccini in farmacia. Per la forte domanda si attendono nuove consegne questa settimana per poter proseguire la campagna. Domani l'assessore Stefania Saccardi sarà a Roma per chiedere aiuto al Ministero.